Parte da quella che è l'illuminazione delle strade pubbliche, quindi della pubblica illuminazione. Se fino a ieri pagavamo qualcosa come 220 mila euro a trimestre, ad oggi la previsione che ci arriva è di 440 mila euro a trimestre. Quindi quello che ci arriverà sicuramente è un conto molto più salato. Apertura ridotta dei parchi cittadini, questa la mossa che sta valutando al momento il comune di Arezzo per far fronte al caro energia. Questa sicuramente potrebbe essere una possibile soluzione che mi permette anche di non andare a intaccare quelli che sono i lampioni lungo le strade e quindi magari chiudere un'ora prima un parco pubblico chiuso in maniera tale da limitare quelli che sono i disagi e permettere comunque di avere le strade illuminate. L'aumento rischia però di essere addirittura più corposo perché gli ultimi tre mesi corrispondono a quelli con le condizioni migliori di illuminazione tra ora legale e lunghe giornate. Con l'inverno tutto questo sarà ribaltato anche negli immobili comunali perché le luci dovranno stare più accese, dovranno stare più accese anche quelli che sono i riscaldamenti e anche all'interno delle scuole abbiamo lo stesso problema. Una soluzione è quella pensata dall'amministrazione comunale per non incidere sulla sicurezza ma anche per evitare giri di vite drastici. Di sicuro non si risolvono i problemi andando a monumentare le tasse specialmente in un periodo come questo che poi dopo ritornerebbe anche contro quello che è il gettito che l'amministrazione riesce a prendere anche nella spesa quotidiana dei propri concittadini e quindi l'ultima soluzione che vogliamo adottare è quella di andare a impattare sulle casse dei nostri concittadini.